eccomi qua ragazzi ciao a tutti sono su un tratto di percorso delle strade bianche guardate queste sono le strade bianche il problema delle strade bianche è che se passa la macchina poi ci spolvera questo tratto è quello percorso dai professionisti e il cippo di marmo riportante appunto il simbolo delle strade bianche ne ha la conferma oggi però voglio parlarvi di un supporto per smartphone o per gopro io li ho entrambi prodotti dalla ditta francese tiagra che ha progettato e sviluppato e prodotto questo dispositivo in europa l'ho provato per voi e devo dire che è molto ben fatto perché è molto solido molto preciso nei dettagli e diciamoci la verità è molto utile perché non dobbiamo mettere il telefonino nelle tasche della nostra giacchetta ma possiamo metterlo direttamente su questo supporto a manubrio che rende la vita di tutti noi molto più semplice perché in caso in cui ci dovessero telefonare o ricevere qualche importante notifica in quel modo avremo tutto sotto controllo adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta io l'ho montato sul manubrio della mia jant eccolo qua non so se si vede questo è il retro vedete il telefonino il mio telefonino è sorretto da questo dispositivo vedete si stringe con delle brucoline al manubrio a diversi spessori per adattarsi a tutti i tipi di manubrio ed è molto bene realizzato inoltre dal braccio che si dipana dal manubrio si può notare come ci sia anche il supporto per la gopro se vedete bene qua con questa questo è l'aggancio tipico delle gopro potete mettere la vostra gopro qua sopra qua sotto anzi scusate e far delle riprese bellissime in bicicletta questo invece è lo sgancio del telefonino la custodia del vostro telefonino la trovate in dotazione quindi quando prenotate il vostro supporto per smartphone per bicicletta e per gopro ricordatevi sempre di indicare il vostro modello di smartphone perché vi daranno una custodia apposita io in questo caso ho un samsung galaxy s5 e mi hanno dato la custodia per il samsung galaxy s5 vedete è molto bello potete inclinare l'inclinazione del vostro smartphone affinché possiate vedere anche con la luce battente lo schermo del vostro telefonino con questa rotellina si aggancia e si sgancia la gopro e questa qua sotto è il dispositivo che trattiene lo smartphone al supporto adesso vi faccio vedere meglio dunque come vi dicevo questa è la custodia vedete la custodia che è in una gomma molto dura questo è il logo tiagra una gomma molto dura che riporta centralmente l'innesto dentato in plastica molto resistente che deve appunto resistere a tutti i tipi di sollecitazione e lascia ovviamente aperti fotocamera luce e microfono si adatta perfettamente ed è molto solida questo invece è il dispositivo con cui il vostro telefonino si aggancia al o meglio la custodia del vostro telefonino si aggancia al supporto il supporto è tutto in metallo fissato vedete con questi due viti a brucola potete gestire voi la distanza dal manubrio e scorrendo in avanti o indietro tutta la slitta e questo è il sistema di di aggancio aggancio rapido per sganciare basterà semplicemente buttare giù questa levetta per agganciare è molto semplice si diciamo fanno combaciare il sistema di aggancio all'innesto ecco qua potete mettere il vostro telefonino come come volete insomma è tutto davvero molto molto semplice a me piace tantissimo perché è veramente è veramente ben fatto ben studiato e insomma come dicevo basta veramente poco guardate eccolo qua questo è il dispositivo di supporto del telefonino che ha anche il supporto per gopro a me risulta molto comodo molto utile l'ho provato su ogni tipo di fondo dalla pietra serena addirittura qua sulle strade bianche sull'asfalto anche disconnesso e devo dire che è molto molto ben fatto quindi ve lo consiglio vivamente bene ragazzi per oggi direi che è tutto questo è un ottimo prodotto che vi consiglio altrimenti non l'avrei portato sul canale è utile perché vi permette di liberare le tasche della vostra giacca è utile perché vi permette di vedere sempre il vostro telefonino se volete potete portare la gopro sul supporto utilizzandola per registrare le vostre uscite in bicicletta che dire in descrizione troverete tutti i link per l'acquisto e per saperne di più noi ci vediamo al prossimo video buon allenamento e alla prossima ciao